Ciao a tutti da Chiara, volevo veramente dare un messaggio di supporto a Noto, che è stata una città che per me ha rappresentato tantissimo e rappresenta tantissimo e spero di tornarci presto. Tutto andrà bene. La bellezza è più forte della paura e questo Noto l'ha sempre dimostrato. Ben trovati, il mio saluto a tutta Noto e al suo sindaco Bonfanti, che mi fa molto piacere per questa infiorata speciale di quest'anno con mascherine e guanti, mi raccomando. Volevamo salutare tutti gli amici di Noto, chi la rappresenta, i cittadini, tutti. L'infiorata va avanti anche quest'anno, nonostante la situazione è quella che è molto particolare e molto delicata. L'infiorata speciale è un indizio, è un segnale di meravigliosa speranza, di colori come sono i fiori, segno di primavera. Ma invitiamo tutti quanti a non dimenticare questo straordinario momento che rappresenta la rinascita, rappresenta la primavera, rappresenta e simboleggia la bellezza di tutto il Val di Noto. Sono orgoglioso di essere qui, di partecipare in qualche misura anche virtualmente e di stare vicino a voi. Un saluto a tutti gli amici di Noto, a tutta la Sicilia, buona infiorata a tutti. Anche l'infiorata quest'anno si farà, sì, in una misura forse più ristretta, ma si farà. Per cui un grandissimo abbraccio, so che verrà fatta simbolicamente in modo che il mondo non possa dimenticare la straordinaria bellezza di Noto, il suo barocco, tutta la sua natura, ciò che la circonda e non vediamo l'ora di essere di nuovo lì con voi. Un abbraccio fortissimo. Un abbraccio a tutti voi, spero di vederli presto e grazie ancora per questo invito. Viva Noto e viva la Sicilia. Ciao a tutti. È un ripartire, è una rinascita inevitabilmente, è soprattutto la bellezza della vita e di Noto. Noto e viva la Sicilia.